Partenza regolare per questa prima batteria! Anche per voi per i semplici tempi il tempo è molto importante! 9,70! Bossi di scarto con il tempo di 33,60! Partenza regolare anche per questa seconda batteria! Andiamo a chiudere questa seconda batteria con la trenta del Bellusco! Vedo Marco che chiude con trentatré e quindici! Partenza regolare per questa terza batteria! ... ... e andiamo a chiudere questa terza batteria con l'atleta 162 cavalli alessandro che chiude col tempo di 33 e 84 partezza regolare andiamo 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 con i due a tre del bellusco molto vicini e andiamo verso l'ultima parte siamo sul rettilineo di due a tre del bellusco velocissimi chiude Baroni Simone col tempo di 33 e 92 ultima batteria ultima batteria forza ragazzi adesso si qualificano i primi 16 tempi è un po' indiviso 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 e andiamo a 30% di giro di Simone Almonito chiude Ceola Riccardo in prima posizione con il tempo di 33 e 37 è un po' indiviso 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 è un po' indiviso